Volevo sapere solamente se lei era stupito di quello che era successo, per capire un po' anche noi come orientati. Assolutamente no. E non invidere anche il ministro, perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare. Detto questo, se le pure l'intervista lascio il nome del mio avvocato che mi sta curando il divorzio, dopo dieci anni. Ah! Signora, è una dottoressa, signora, e ripeto, signora. Se lei è stato sposato per dieci anni? No, ma signora, ma lei è pazza, dieci anni con la signora Boccia. Assolutamente no. Un anno mi è passato e mi ha avanzato. Un anno? Sì, sì. Guardi, lascio... E siete divorziati? Purtroppo ci sono tante vicissitudini, io ora non le raccomando. No, no, ma sei sicuro, era per capire lei quanto era rilevante nella vita della Boccia. No, no, io non vorrei proprio essere rilevante, mi credo. Perché un anno mi è passato e mi ha avanzato. Quindi a me non interessa i riflettori, a me non interessa niente. A me interessa stare lontano da quella persona.